Siamo con Michi Girardi che ufficializza la sua candidatura a sindaco con la sua lista. E quali sono i punti principali del programma per le amministrative? Anzitutto la lista civica nasce per la volontà di offrire alla città dei progetti autonomi al di fuori dei condizionamenti delle faide di potere che purtroppo ci sono sia a destra che a sinistra. La priorità naturalmente la grande questione è il lavoro, però a fronte di iniziative necessarie di emergenza a favore dei nuovi poveri che possono essere pensate e attuate anche utilizzando leggi già esistenti, già vigenti naturalmente bisogna comunicare e far capire ai cittadini che la città è una struttura pulsante nel suo insieme e quindi fare le giuste scelte in materia di urbanistica e di ambiente vuol dire aiutare l'economia della città a riprendersi, a rialzarsi. Quindi non si tratta di tecnicismi o di scelte avulse dalla vita di ognuno dei cittadini. Bisogna comprendere che la città ha una identità. La particolarità di Ascoli è di avere un territorio molto variegato quindi da un centro storico di pregio fino ad una zona industriale nella quale oltre a molte grandi aziende che hanno chiuso ci sono tanti piccoli imprenditori che resistono. Abbiamo presentato la lista, abbiamo iniziato la presentazione della lista in un luogo produttivo in cui un piccolo imprenditore in zona Campolungo resiste sia alla crisi economica globale che alle vessazioni anche purtroppo che riceve da enti e organismi locali. Quindi su questo accenderemo un faro, vogliamo indicare delle soluzioni per superare e per migliorare le criticità notevoli che ci sono. E poi faremo iniziative specifiche sui singoli temi perché intendiamo approfondire e proporre le nostre idee in modo specifico sulle varie questioni. Comunque la lista civica si caratterizza per candidature da parte di persone generose di tutte le fasce di età, di tutte le esperienze lavorative e professionali e anche di varie estrazioni e provenienze politiche che però sono deluse dalla politica. Alcuni non sarebbero andati a votare e invece hanno l'amore per la loro città e vogliono comunque impegnarsi per offrire progetti autonomi.